Ciao ragazzi, qui è Suorsobret. Vogliamo diventare la versione migliore di noi stessi. Quanto inflazionata questa espressione, però rende bene l'argomento. Allora, spesso mi capita di consigliare, e lo faccio volentieri, di giocare al gioco del come se, come quando eravamo bambini e vestivamo i panni di questo, di quel personaggio. In questo modo gabbiamo la nostra mente, nel senso che la prendiamo in giro. Evitiamo, saltiamo il processo, saltiamo il tempo e la dimensione del tempo per incarnare nel qui e ora la persona che desideriamo essere, per poter vivere la realtà che desideriamo portare a manifestazione. Ci siamo? Qualcuno potrebbe dire, eh sì, Suorsobret, ma come facciamo a distinguere le persone che giocano al gioco del come se, dalle persone ipocrite? Ma amore dolce. L'ipocrisia dipende dall'intenzione che si cela dietro l'azione di una persona. È proprio la persona che indossa la maschera per apparire non com'è, ma in modo diverso, pur di ottenere un vantaggio dalle persone con le quali si mette in relazione. Vuole apparire migliore sicuramente, diverso, gradito, ottenere la simpatia, reputazione, credibilità. È tutta un'altra cosa l'ipocrisia e guarda caso, se c'era una categoria che Gesù non sopportava, era proprio quella degli ipocriti, razza di vipere.